Musica Sono andate in archivi alcune date del Playmumec, altre ce ne sono, in realtà alla fine di settembre. Ecco un modo per apprendere, per giocare e per conoscere questo museo. Siamo a metà proprio del percorso Playmumec, giocare al museo, un'idea nata assieme all'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, proprio per far vivere il museo a giovani e ragazze in maniera differente. È stato pensato quest'anno di improntare il tutto all'interno del gioco da tavola più conosciuto in assoluto a livello storico, a livello italiano sicuramente, che è il gioco dell'oca, ristrutturandolo e modificandolo sull'inserimento di caselle speciali dedicate a settori del museo. Quindi un modo per far divertire, per divertirsi, un modo del tutto informale, quindi semplice e giocoso per passare una serata anche fra amici, però uscire insomma con alcune consapevolezze in più, sia sulle illusioni ottiche, che sia sulle inventori, che sia sui 150 anni di Marconi. Quindi imparare però sempre divertendosi. 26 e 28 settembre, giusto? Le prossime date saranno proprio queste, saranno due dati particolari perché il 26 settembre sarà l'ultima data dedicata agli adulti e il 28 invece sarà una giornata, un pomeriggio dedicato a un Playmumec dedicato ai bambini.